Un risveglio diverso dal solito è quello di questa domenica mattina per Ficarazzi. Tutti in sella e si è dato il via alla seconda edizione di Bici in Festa, la pedalata ecologica voluta dall'associazione Io amo Ficarazzi. Un serpentone di ciclisti ha attraversato le vie del paese per salutare l'arrivo dell'estate e per dimostrare che la bici è un mezzo ideale per un paese che guarda al futuro. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il presidente del consiglio e gli assessori intervenuti nella manifestazione, la Uvidenza Academy per lo spettacolo di musica dal vivo, balli di gruppo e risveglio muscolare, la SD Ficarazzi Calcio a 5 per essere intervenuta con i propri bambini della scuola calcio, Filippo Iaria per gli scatti che ha regalato a questa manifestazione, i carabinieri, la polizia municipale e la protezione civile e infine Dario Mammane, la shop and service per audio e service dati alla manifestazione. Infine, ultimo ma non per ultimo, il ringraziamento più importante a Tiziana D'Alessandro e a Salvolo Giudice che hanno contribuito per la realizzazione di questo evento. Grazie proprio a tutti per essere stati presenti e per aver dato corso alla seconda edizione di Bici in Festa. Grazie.